guardiamo chiasi manco un uomo però non ho non ho arredito nemmeno dalla partita dai dai attento me ne hai fatte eccito calma ma perdono vai a battere tre 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 e ma e 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 a destra bravo bravo e 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 mister questo tempo come come l'hai visto bene bene dobbiamo migliorare ma c'è solo e 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